Voi la partita tra la prefabricati pugliesi e Porto Torres, vi siete persi la prestazione di Michele Cardinali, ci ha pensato Nicolò Lania a metterla tutto insieme, 40 minuti e 40 secondi, sono un minuto e non ricordo quanto, guardiamo un po'. Grazie per la visione Grazie per la visione